ang in radio più di prima l'agenzia giovani nel tuo territorio qui sesto san giovanni ciao a tutti questa intervista si colloca all'interno del progetto ang in radio proposto da agenzia nazionale giovani noi abbiamo rinominato il nostro presidio radio sesto san giovanni life matter le vite contano quello che andrete ad ascoltare è un estratto di un'intervista con marco crepaldi psicologo sociale e fondatore dell'associazione ikikomori italia buon ascolto andiamo a parlare appunto dell'oggetto di studio quindi anche del motivo per cui oggi ci troviamo ovvero appunto la questione dell'ikikomori e essendo un termine magari sconosciuto adesso sicuramente anche grazie al tuo contributo è più conosciuto però scommetto che sono persone che ancora non hanno idea bene di cosa si tratti di cosa significa esattamente quindi la domanda appunto che sto per fare quella sempre ovvia però mai comunque non rilevante che cos'è un ikikomori è una domanda giusta perché come dici tu il termine per fortuna negli anni sta diventando sempre più conosciuto e però molti non l'hanno mai sentito quindi per dirla semplicemente ikikomori è una parola che veniva utilizzata in gergo quindi non in ambito medico ma semplicemente nella popolazione giapponese già negli anni 80 per riferirsi a quelle persone che si isolavano lasciavano la scuola lasciavano il quartiere e si rinchiudevano in casa quindi questa parola è una parola letterale è un'etichetta si traduce letteralmente con stare in disparte poi questa parola viene piano piano riconosciuta come un fenomeno un vero proprio fenomeno sociale proprio perché ci si rende conto che questa etichetta è stata creata per riferirsi a delle persone che presentano un specifico pattern di isolamento cioè le dinamiche sono simili le motivazioni alla base sembrano simili e quindi incominciano a studiarli questi ikikomori di psichiatri in particolare uno dei primi è stato tamaki saito che ha pubblicato anche un libro che si chiama adolescenza senza fine e appunto è stato uno dei primi in giappone a parlare di ikikomori ea dare a questa etichetta una valenza scientifica e poi appunto questa parola ha incominciata a essere di interesse in tutto il mondo perché se è vero che il iphone ha dei numeri altissimi a causa di una cultura che favorisce particolarmente lo sviluppo di questa sindrome chiamiamola così di questo disagio sociale anche nel resto del mondo in particolare in italia sembra che ci sia terreno fertile affinché questo tipo di manifestazione di disagio adattivo sociale prenda piede e il perché sono ovviamente sarà oggetto di questa discussione ma diciamo che la parola ikikomori nasce come semplicemente una persona che si isola ma oggi si sta evolvendo sempre in un concetto più ampio che anch'io ho cercato di ampliare nel mio libro e nelle mie nei miei video nei miei articoli cercando di spiegare perché questa persona si isola e perché questo isolamento è diverso da tutte le altre forme di isolamento perché ovviamente non è che l'isolamento sociale è nato oggi ma oggi sta nascendo una particolare forma di isolamento sociale con delle determinate caratteristiche e merita un termine nuovo proprio perché è una forma di isolamento che non non esisteva fino a non molti anni fa o comunque non esisteva su scala macro sociale quindi esisteva magari in pochi singoli casi sporadici mentre oggi in giappone si parla di più di un milione di casi e in italia di centinaia di migliaia di casi anche qui diciamo un po similmente a prima vorrei provare a fare un attimino un passo indietro anche qua terminologicamente parlando diciamo ovvero tu hai utilizzato mi sembra il termine disagio sociale o disturbo sociale comunque giusto il riferimento secondo me la definizione più precisa di chi comori è disagio disadattivo sociale disadattivo nel senso che è una difficoltà dell'individuo di adattarsi al contesto sociale che non significa che sia di per sé patologizzato l'individuo si potrebbe anche patologizzare viceversa il l'ambiente sociale c'è il punto è che c'è questo individuo che non riesce più a stare in questa società e qual è quale dei due ha più colpa diciamo poi andrà approfondito però tutte e due hanno delle colpe quindi è un disagio adattivo di tipo sociale ma in questo senso anche qua cosa distingue diciamo una condizione o meglio una fattispecie tipo questa quindi delle chi comori da altri tipi di disagio magari psicologico mentale cioè qual è la differenza anche qui a livello di termine essenzialmente allora sì sicuramente sarebbe più corretto dire disagio psicosociale ecco quindi l'aspetto psicologico c'è sicuramente l'ichicomori viene differenziato da allora si fa spesso una diagnosi differenziale nell'ichicomori ma in realtà è sbagliato perché l'ichicomori di per sé non è una diagnosi è una modalità di isolamento una modalità di rifiuto della società che ha due caratteristiche abbastanza peculiari la prima origina da una difficoltà di relazionarsi quindi una difficoltà relazionale e di percezione delle relazioni quindi l'ichicomori fatica a trovare beneficio fatica a trovare piacere soddisfazione dalle relazioni interpersonali a questo disagio si accosta molto spesso un altro tipo di eh disagio che è quello legato al rifiuto della società o comunque ad una visione molto cinica della società moderna nel senso che l'ichicomori quando si isola colpevolizza molto le dinamiche di questa società quindi pensa che questa società funzioni in modo errato dunque il suo isolamento dal suo punto di vista è un isolamento volontario anche per questo io a volte traduco il termine chico mori con isolamento sociale volontario dove volontario non sta a indicare che questo ragazzo è contento di isolarsi ma sta a indicare che lui la percepisce come una scelta consapevole cioè non come una imposizione come può essere per esempio l'imposizione che stiamo vivendo noi no quindi non possiamo uscire di casa perché c'è il cori no c'è l'ichicomori non esce di casa pur potendolo fare perché non perché non riesce nella maggior parte dei casi o comunque spesso non riesce ma allo stesso tempo ne è in parte convinto del fatto che lui non riesce a uscire quindi diciamo che c'è una sorta di razionalità in questa scelta in questa condizione che rende l'ichicomori particolare che rende l'ichicomori anche a livello motivazionale diverso delle altre forme di ritiro per esempio un depresso io mi lascio con la ragazza vado in depressione mi viene un trauma molto comune non sto scherzando è molto grave a volte il trauma lasciato dalla fine di una relazione il deprimo mi chiude in casa perché perché no perché mi sviluppo una sorta di sindrome depressiva ecco in questo caso non mi sto isolando perché non riesco a relazionarmi con gli altri ho sfiducia nelle relazioni ho vissuto delle relazioni negative penso che la società sia malvagia penso che la società sia sbagliata non mi riconosco nei valori sociali e nei valori appunto della società moderna queste sono caratteristiche che una persona che si isola perché ad appunto in un trauma depressivo di solito non ha mentre l'ichicomori ha spesso tutta questa serie di pensieri legati appunto alla sua scelta dell'isolamento dunque in questo caso parliamo di due isolamenti diversi un isolamento prettamente depressivo è un isolamento invece dettato da una sfiducia e da un rifiuto delle relazioni particolarmente pervasivo quindi diciamo che l'ichicomori non si sente apprezzato non si sente ben voluto non si sente coinvolto da questa società e quindi decide di isolarsi questa è una condizione che non crea per forza una nuova categoria diagnostica perché poi nell'ichicomori così sono magari depressione fobia sociale dipendenza da internet eccetera eccetera quindi coesistono magari diverse patologie grazie che ci sia un disturbo evitante di personalità insomma non è una categoria diagnostica l'ichicomori è un nome che diamo a un fenomeno sociale un trend sociale che ha delle caratteristiche simili e per questo può essere in qualche modo raggruppato e può essere in qualche modo si identificato come un fenomeno a se stante rispetto ad altre forme di isolamento però ripeto e io la utilizzo più in senso sociologico l'ichicomori non in senso diagnostico clinico per questo che io non sono neanche a favore del fatto che l'ichicomori diventi un etichetta clinica perché in effetti l'ichicomori talmente vario nella sua poi la sua ideologia nella sua idea della motivazione per cui si isola e non non basterebbe un etichetta per per chiudere tutti questi casi quindi si parla di un fenomeno generale che può essere identificato su scala macro sociale poi nel singolo caso si può vedere quali sono le dinamiche che portano poi l'isolamento perfetto poi sì magari sulle cause i fattori che portano all'isolamento volontario così come l'hai appena descritto ci soffermiamo dopo un attimino appunto parlare della dell'eterogenità della estrema varietà appunto delle persone che rientrano in questa definizione così come tu l'hai detta appunto ok vi è un'estrema diversità però allo stesso tempo quali sono ci sono delle caratteristiche che sono comuni al di là delle cause ovviamente tu adesso hai menzionato le pressioni sociali la paura appunto del giudizio altre cose però al di là delle cause ci sono delle caratteristiche che possono comunque creare anche magari dei sottotipi di chicomori non lo so allora sì ci sono delle caratteristiche ricorrenti negli chicomori una è il genere sono soprattutto maschi sono soprattutto maschi per la per il 70 80 per cento questo è un dato che è confermato sia dal giappone che dall'italia addirittura nell'ultimo sondaggio interno dell'associazione il 90 per cento del nostro dei nostri genitori in particolare madri aveva un figlio maschio quindi parliamo di un fenomeno che ha una connotazione di genere abbastanza chiara quindi non può essere un caso sono soprattutto giovani di chicomori inizia soprattutto in un'età adolescenziale o in una prima età adulta le due età che sembrano essere più a rischio di cadere in questo tipo di disagio sono i 15 anni quindi il passaggio dalle scuole medie le scuole superiori e il post diploma per due motivi diversi che poi magari andiamo approfondire però c'è una connotazione con l'età detto questo l'ichicomori può potenzialmente insorgere a qualunque età e non toglie che l'ichicomori possa se si cronicizza cosa molto facile durare anche tutta la vita quindi non è che l'ichicomori nasce in adolescenza e dura x anni e poi passa come fosse un virus come fosse appunto un ciclo no l'ichicomori si cronicizza anzi spesso tende a andare sempre peggio e quindi se tu non intervieni correttamente il problema più grave dell'ichicomori è quello che questa persona starà sempre peggio e potenzialmente non uscirà mai dalla propria condizione un'altra caratteristica ricorrente è legato al pattern familiare molto spesso nell'ichicomori c'è una famiglia composta molto spesso non vuol dire sempre però c'è questo tipo di pattern dove una madre che ha un profilo ansioso profilo ansioso che a volte può diventare può tradursi in attenzione eccessiva comunque apprezzione eccessiva per lo sviluppo del figlio e invece una figura paterna più debole più debole anche emotivamente che fatica a relazionarsi in modo intimo col figlio questo è un problema più generale legato alla figura maschile al ruolo di genere maschile che in qualche modo prescrive la soppressione dell'emozione quindi riduce anche la capacità la competenza di legare con altre persone compreso con tuo figlio e questo tipo di pattern appunto fa sì che il figlio cresca sviluppando un rapporto di dipendenza a volte anche simbiotica con la madre e non riesca a sviluppare determinate competenze che invece sono necessarie per fare quella transizione dall'età infantile all'età adulta che appunto viene chiamata adolescenza adolescenza da un punto di vista psicologico è la fase di intermezzo tra la fase della vita in cui il bambino ha bisogno dei genitori alla fase in cui il bambino non ha più bisogno dei genitori per tutta una serie di caratteristiche psicosociali questa fascia di età oggi questa fase tende a non esaurirsi mai in alcune persone quindi di fatto come dicevo nel libro di Tamaki Saito questo psichiatra giapponese l'ikikomori viene definito una sorta di adolescenza senza fine quindi come se il ragazzo di fatto non riesca a fare il salto evolutivo psicologico per transitare dall'età infantile all'età adulta poi ci sono ovviamente caratteristiche temperamentali sono spesso ragazzi che hanno caratteri definirei che definirei particolari ma diciamo particolari per la società non sono caratteri sbagliati sono caratteri atipici e rendono magari più difficile il legame con gli altri che ti portano a essere vittima di bullismo ti portano in qualche modo a essere schernito isolato e sono ragazzi sensibili ragazzi che non riescono magari a reggere certi tipi di rifiuti certi tipi di anche reagiscono in maniera magari autodistruttiva piuttosto che reagire in maniera competitiva magari cercando di reagire a delle difficoltà e sono ragazzi anche molto idealisti hanno un modello della società molto ideale un modello di relazioni molto ideale e spesso questo modello ideale non coincide con quello che è la realtà dei fatti cioè una società con tanti problemi le relazioni complesse eccetera eccetera e quindi sono ragazzi che in generale hanno alcune fragilità hanno anche magari una bassa autostima fisica hanno magari in generale la percezione di essere diversi di essere in qualche modo differenti dai loro coetanei e di appunto non sentirsi parte integrante di questa società questo sentimento di sentirsi in qualche modo scollati dalla società è uno dei sentimenti chiave dell'ichico mori e uno di quelli che appunto lo definisce tale ok volevo appunto soffermare un attimino sulla questione della della parola che tu hai utilizzato per cronocizzazione della della condizione essenzialmente e cosa significa esattamente cioè cosa comporta la anche magari riflettendo sugli effetti che può avere diciamo un isolamento a seconda della sua durata su quello che è il soggetto appunto che lo vive che lo sceglie ma la cronicizzazione è appunto il fatto che il problema dell'ichico mori auto alimenta il problema cioè è un classico problema psicologico circolare nel senso che il problema stesso ti impedisce di risolvere il problema capita spesso anche nella depressione per esempio cosa condizione tra l'altro che spesso si associa l'ichico mori perché spesso l'ichico mori ha anche una forte componente depressiva però ecco l'ichico mori ti porta a stare da solo ti porta a non fare esperienze e questo blocco delle esperienze ti porta anche un appiattimento della tua capacità di miglioramento perché l'essere umano migliora attraverso le esperienze se un essere umano non fa esperienze tenderà spesso ad appiattire anche la propria evoluzione la propria capacità di miglioramento e quindi diciamo che la condizione stessa dell'ichico mori favorisce poi una minore capacità sociale cioè se io sono un'ichico mori e mi isolo perché ho poche competenze sociali è ovvio che questo isolamento non mi aiuterà a sviluppare di nuove competenze sociali ma anzi tenderò a perderle oppure c'è un'altra un'altra sensazione l'ichico mori spesso si isolo perché ha in qualche modo la sensazione di essere rimasto indietro la sensazione magari anche la ferita narcisistica di aver fallito degli obiettivi e questo tipo di ferita è legata spesso al tempo perso all'ansia di aver perso troppo tempo all'ansia di essere rimasto indietro ed è evidente che questo tipo di problema si si peggiora col passare del tempo cioè un ragazzo che si isola a 15 anni e a 20 anni a 18 anni cosa non assurda perché molto spesso gli isolamenti durano anche in media in italia dai due tre cinque anni ovviamente dopo tutto questo tempo il ragazzo avrà ancora più l'ansia di essere rimasto indietro magari non ha preso il diploma magari era anche più bravo della classe e però non riusciva appunto a relazionarsi con gli altri e questo l'ha portato ad abbandonare la scuola quindi doppia beffa no oltre al fatto che non ti sei diplomato eri anche magari uno dei più bravi insomma per tutta una serie di motivi questo ragazzo magari incomincerà a pensare che la sua vita ormai è compromessa che la sua vita ormai è segnata che non potrà più riprendere un percorso di vita perché non ha un diploma perché non ha mai fatto un lavoro siamo nella società che non ammette i buchi nel curriculum cioè se noi pensiamo un ichikomori ea me alcuni di loro me l'hanno chiesto esplicitamente ichikomori che va un colloquio di lavoro e che deve giustificare il fatto che per magari due o tre anni è stato completamente isolato in uno stato di inattività e questa società non ammette questo tipo di buco nel proprio percorso di vita quindi diciamo che è un'onta una una condizione talmente umiliante che il ragazzo non riesce affrontare che non riesce e ad accettare né a pensare che gli altri possono effettivamente accettarla come una cosa tutto sommato normale o comunque non così folle e dunque l'ichikomori si lascia andare si lascia la deriva e questo tipo di deriva comporta anche un annullamento della percezione del tempo dello scorre del tempo che viene magari in qualche modo anche abbattuto attraverso l'abbassamento delle tapparelle quindi la non percezione dello scorre del tempo l'annullamento del ritmo circadiano quindi del ritmo sonnoveglia c'è tutta una serie di strategie psicologiche e anche pratiche per evitare di percepire lo scorre del tempo quindi evitare la sensazione di perdere ulteriore tempo sulla propria tabella di marcia perché non l'abbiamo detto ma l'ichikomori è fondamentalmente determinato dalle pressioni sociali cioè dall'ansia di realizzazione personale questa è una cosa importante cioè dal fatto che un'ichikomori soffre a livello macro sociale quest'ansia del successo personale questa ansia di doversi realizzare e dunque il fatto di non starsi realizzando mentre sei in isolamento viene in qualche modo oscurato negato attraverso tutta una serie di tecniche che poi però portano l'ichikomori appunto a perdere contatto con la realtà perdere contatto con lo scorre del tempo e lasciarsi a una deriva che porta poi a una cronicizzazione porta poi a una condizione in cui il ragazzo o la ragazza non sa più come uscire perché appunto si è protratta per talmente tanto tempo che è diventata una sorta di gabbia una sorta di prigione da cui poi non riesce più a trovare uno spiraglio una speranza una motivazione per riuscire a emanciparsi grazie ancora per aver parlato con noi di sesto san giovanni lies matter le vite contano questa intervista diventerà un podcast per il progetto ang in radio ang in radio più di prima l'agenzia giovani nel tuo territorio da sesto san giovanni è tutto progetto finanziato dal bando ang in radio più di prima di agenzia nazionale per i giovani grazie ai fondi del dipartimento politiche giovanili ed il programma europeo erasmus plus grazie a tutti